Ciao a tutti, benvenuti in questo video speciale, questo è il video sul mio canale speciale, potete dire che sono il perfetto, anzi, potete dire che io sono una cattaria, è visibile con le mie canzoni, canzoni di Glock, Scuba Glock, io sono pronta a vedere anche il mio gruppo di risoluzione, io sono il biglietti, mi ingrandirà il consenso, io sono un nuovo ballo e un nuovo chistanga, siete pronti, attenti che ve l'ha detto, vai, mi aiuta le cuffie, io sono pronta a fare ballo, voi, bocca salute, intanto per vedere se ti voglio bene, per il programma, per il camp e per il youtube, vedete quello che vi esce un bravo per l'uomo, sono stati pronti per vedere i miei dati video, signori, signori, passo, signori, e signori, 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 salve la mia e il vostro primo video per su youtube, e guardate domani, oltre a se la mente, eccomi state! ok, io sono pronta a vedere, sapete che io uso il chitario, non chitario, ma non ho qui, sono dei miei babbo andros, io posso avere un chitario invisibile, per sentire chi è più brava, più famosa, dai youtuber, io sono pronta, 3, 2, 1, oh! signori, signori, benvenuti, è il mio grande, è il mio grande video, è il mio grande video, è il testo, guardate 3, 2, 1! 1,2,3,4,5 Tu vivi e No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no • • • • • E' libera me' Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeredhhh WARSIO BIN POPEI Da-n-n-no Biii Questo video se l'ha sentiamo la donna sui sky questo video vi vorrei sentire adesso sky e tutto il mondo, anche di roma, anche di me con te, anche il cappicciato tutti ragazzi, tutti ragazzi, questo è un amore per me grazie